Di sicuro non parteciperanno alla trasferta sarda i due squalificati a cui si aggiungono Arcidiacono e Yanga, speriamo che si sia in dirittura d'arrivo per recupero di entrambi. Ci sarà da valutare nell'allenamento di oggi Luciani e Benassi che hanno avuto qualche fastidietto riferito a Massimiliano in settimana e Luciani successivo alla gara di Prato. Le risposte degli ultimi giorni sono state abbastanza positive e speriamo che oggi venga confermato il tutto e che possano essere a disposizione. Come si può mettere in difficoltà la Olbia? Le chiedo se hai in mente di giocare con una punta o con un attaccante vicino al centroavanti che in questo caso è soltanto Polidori? Ma noi anche quando abbiamo utilizzato il centrocampo a tre spesso l'attaccante esterno è venuto a giocare nella dinamica, nello sviluppo è venuto a giocare un pochettino più vicino all'attaccante centrale quindi non è che cambia tantissimo. Cambiano magari i tempi di inserimento, cambia lo sviluppo nel momento in cui la palla la porti nella metà campo avversario. Però devi essere bravo a star corto perché loro sono degli abili palleggiatori, giocano bene da dietro, è una squadra che prova sempre a costruire, spesso quando sono riusciti a verticalizzare in maniera improvvisa servendo in profondità Coco sono sempre stati pericolosi e quando invece trovano squadre un pochettino sfilacciate riescono a servire tra le linee giocatori come Cosso, giocatori come Ragazzo che hanno delle qualità che non a caso hanno permesso di giocare in categorie superiori diventano una squadra molto molto temibile. Però hanno anche delle lacune, noi dovremo cercare di sfruttarle anche se nella gara di Siena le hanno molto 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 mascherate, sono stati veramente bravi, è stata forse in assoluto la prima gara dove per continuità hanno fatto veramente bene nella fase difensiva utilizzando benissimo anche il sacrificio dei tre davanti perché sono stati credo determinanti nel riuscire a neutralizzare le fonti di gioco della squadra di casa.